Benvenuti in questa nuova serie dove io e mio cugino, un nuovo personaggio di questo canale, giocheremo a tutte le missioni online di Assassin's Creed Unity. Prima giocheremo alle missioni furto, dato che sono poche e nemmeno un granché, almeno ce le togliamo subito e poi a seguire le grandi missioni co-op, quelle narrative biene di casini. Beh, spero vi piaccia questa nuova serie e vi auguro una buona visione. Mamma mia, ma c'è uno che sta guardando, c'è uno che è tipo da un telescopio che sta guardando il cielo di giorno. Mi sembra giusto. Si acceca facilmente il ragazzo. Poi io qua sono stranicco, ho 780.000 franchi, com'è che si chiamano? Sì sì, no, anche io perdo il conto, perdo il conto. Bene, proviamo, proviamo? Ok, sono in caricamento. Ok, è entrato nel mio gruppo, mi dice, quindi se adesso facessi gioca partita privata, mette noi due. Non so. Ti sta dicendo che stiamo cominciando... Sì, ma siamo nella map insieme quindi? Eh sì! Ma adesso siamo in due... No, perché infatti non avevo mai giocato online con qualcuno tra gli amici, c'era sempre gente a casa. No, certo, certo. Non ci avevo pensato. Quindi, si è unita la missione, eccoci. Sì. Ma perché è in inglese? Non so che me l'hai messa te in inglese. In fondo alla strada, gli ospedali non erano ancora... Io c'erano in italiano, ecco. No, io dico, me l'avevi messa te in inglese, non so. Ah, forse abbiamo provato a sentire come parlavano in francese in inglese. Vodarse, sì. Dobbiamo entrare e recuperarne. Aspetta, voglio vederti. Ecco ti. Allora, ti faccio vedere come... Aspetta, ti faccio vedere come sono senza vestito. Non deve essere anonimo a livello della strada, veramente. Eh, allora aspetta, perché qua c'è... Oddio, c'è il... Eh, sì, te l'ho detto. Usciamo il cancello di destra. Eh, no, ma... Vieni, vieni, vieni. Eh, ma c'è un tizio che mi sta guardando. Ora non più. Eh, no, mi sta ancora guardando. Sta venendo verso di me. Ok, se ne sta andando. Oh cacchio. No, non è successo niente. Ok. Guarda, ti faccio vedere allora. Attrezzatura, equipaggiamento, vestiti, vai, rimuovi. Guarda, c'ho il cosa che balla dietro. È bruttissimo. Ok. È asciuttissimo. Sono peggio. Ma tu c'è il fucile. Ma non fa cacare il fucile. Beh, lo stai per scoprire. Perché il fucile non usi la spada, vero? Cioè, lo usi come spada il fucile. Eh, sì. Ma infatti... Ecco. Faventa. Sono col fucile invece che con la spada. Sto giocando senza HUD, quindi ho però bisogno del tuo aiuto. E... Ho più vita di te, mi sa. E mi hanno appena visualizzato. Quindi... Divertiamoci. Tanto sono di livello 1. Questi qua li shot con la spada. Eh, anch'io con questo. Quanto pare. Ah, questo qua è vivo. Ah, che potere hai tu del gruppo? Eh, io ho la mimetizzazione. Eh, sì. Ok. Vabbè, lo stavo ammattando in due, quello. Io invece c'ho quello che ci dà, tipo, le granate. No, no, come si parla. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sì, sì. Ah, una è qua sotto. Vieni, vieni. Quindi non aver paura di usare le munizioni di alcun genere, perché le rifornisco tipo lampo. Sì, sì. Non so se conviene andare uno in un punto e uno in un altro. No, perché è solo uno. Ah, così. Ah, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Si va della? Si va di là. Eh, sì. Vai, realtà qualcuno c'è. Non ho visto un tizio. Sì, ma è in fondo. E' già morto. Perfetto, roba tu. Ah, proprio così, sì. Beh, questo è uno. Sì, sì, ok. Ma, ah, devo rubare anche io. Ma dai. Ah, no. Me l'ha data a me, obiettivo completato. Ah, ok, sì, sì. Devi fuggire dalla zona. Sì. Ah, beh, io... Eh, non di qua. No, di là è bloccato. Ah, anche di qua è bloccato. Si scende giù? No, perfetto. Ah, beh, si riusciamo da dove siamo entrati, via. Sì, si può salire. Sì, ok. Sì, sì. Sì, sì. Scadette. Ah, ed ho spanato un tizio così random che ucciderò prontamente. Eravamo passati di qua, mi pare, non mi ricordo. Yes. Mi sa di spesso. Sono già perso. Ah, no, di qua, di qua. Ah, giusto. Le cifre di questa gioco le odio. Sì, anch'io. Devo fare la cifremente di stordire silenziosamente, anche tu in realtà. 10 persone. Bisogna che devi fare? Bisogna stordire 10 persone senza ucciderle. Ah, posso di accoparle. Devi tenere premuto B invece di quadrato, that's the thing. Sì, sì, vabbè, io non gioco con la tastiera, però. Sì, sì, vabbè. Sì, te lo capisco. E' in attesa che gli altri giocatori fuggano. Ok. Vabbè. Vabbè, questa è la parte 1, immagino. No, io ti voglio vedere ad ammazzare quello lì con il montacarichi. L'ho fatto. Ah, l'hai fatto? Sì, sì. Davvero? Facile. È molto più facile del previsto. Aspetti che si avvicini molto e poi... Ah. Vabbè, questa missione è già finita. Allora, te ne facciamo un'altra subito. La mia stai entrando nel gruppo, è in attesa di alcuni giocatori. Però io ti vedo ancora. Sì, anch'io. Ma quale gruppo per il gruppo? Cioè io nel tuo, tu nel mio. È che è scomparso. Non so. Ma io mi posso mi ammettizzare, stanno dicendo a te. No, non so. Facciamo così. Chi. Voilà. Forti, la partita sta per cominciare. Yes. Razia nella catacombe. Oh. Vai. Non di nuovo. Madre mia. E io mi come che... La abbazia di Saint Germain de Pré, molto chic. Fondata nel VI secolo, esisteva già prima che nascesse la Francia come stato unitario. Ovviamente durante la rivoluzione la chiesa non era molto popolare. Così la abbazia fu saccheggiata e trasformata in un magazzino. In un ragazzino. Questa rivoluzione l'occasione per rubare oggetti di valore. Dovete recuperarli. Ok. Vabbè. Quindi? Mi sembra... Ma c'è una coccarda là. Dove? Se tu l'hai presa sicuro. Non è detto. Boh, qua davanti è questo. Io la piglio. Ah, sì, l'ho già presa io. La vedo trasparente. Allora. Ah, laggiù è la roba però. Yes. Saliamo qui. Sì, se fossimo in Syndicate già saremmo già arrivati. Con il rampino, mamma mia. Mi sa che, visto che era... Missione nelle catacombe. Mi sa che dobbiamo entrare nelle catacombe. Quindi raggiungiamo quella scala là. Come si faceva a mettere i segnalini? Si può. Qua? Non sparando, magari. Mi sono ripreso i munizioni. Quattro munizioni. Ah, ok. È regalato munizioni, grazie. E' certo che far serve a quello. Sì, sì. Ok. Ogni sì e che prendi... Ti maxa tutto. Ti maxa tutto, tranne le medicine. Ah, beh, le medicine non è tipo 50. No, ne ho 9. Ah, perché sto dando quello da poveri, di Zenetta. Non mi guardi, non mi veda, non mi veda, non mi veda. Sta arrivando un tizio con la torcia. Sì, ho notato. Mi fido di te. No, tieni premuto. Ok, ok. Devi, 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 devi. Ah, non lo tenere in premuto. Sì, vai. No problem, no problem. È morto. Ok, aspetta, ah, ne sta arrivando un altro. Ti ha visto. Vabbè, io cerco di fare... Vabbè, è scemo se... Si incasina nella campana, questo. Lo sta facendo. Ho visto delle cose mistiche. Sento suoni di morte. Allora, andiamo... Boh, già qua giù proviamo, dai. Dai. Credo sto tizio sperando in una medicina. Io ammazzo quello che hai stordito. Ah, ma c'è un altro tizio, magari. No, non ammazzarmi. Oh, due medicine ho preso. Guardate, se sto tizio deve romper le balle a me, oh. Allora, quando arriva un po' da altri. Allora, qui la situazione è grama. Un addirinto? Ho fatto un dardo del furore. Così si divertono. Non solo un dottore, ma... Ha impattito qualcuno. Di qua? Lo proviamo. Ok, quindi ho sprecato un dardo del furore. Ok, faccio un tizio, c'è un tizio. Non è vero. Ah, è dietro di noi. Non c'è le telecamere lì, qua. Ma non... Ma... Quanta gente c'è? Non mi vuole togliere l'HUD. Sì, aspetta che... Ma ti fermo nella mia visuale. Sì, lo so. Vediamo un po' di gente, c'è un po' di gente. Non ti preoccupare, sopravviverò. Mi stanno sparando. Aiuto. Vabbè, è doppia proprio, cos'è. Allora, eh... No, perché vedevo gli attacchi dei nemici e ho detto... Ma no, io non li voglio gli attacchi dei nemici. Nascondi, 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 nascondi... Nascondi, una medicina sarebbe gradita. Sì, concordo. Va bene, a 10 praticamente. Poi io c'ho tipo una cintura che me ne tiene 15 di medicina. Ah, minchè! Posso dovreste cambiarla. Io ne ho soltanto 5, Massimo. E io ne ho 9, Massimo. Beh. E da un po'. Eccola! Ma scusami. Io ne ho 9, Massimo. Hai ucciso in quello che stavo depredando. Eh. Aspetta che controllo anch'io sto punto. Non mi fa riparare. E c'è un tizio che sta arrivando. Ok. Eh. Dov'è? Lì. Ok. È stato bello. Ah, bello. Attaccali. Guarda che è da me, eh. Sì, sì, ma... Visto che devo fare sto cifo, mentre ne approfittavo. Ah, sì, sì. Ok. A boi, io rubo. Sì, sì. Ti raggiungo. Ah no, mi sa che c'ho la cintura quella con 15 medicina. Ne ho 11. Scusa, ma io posso controllare la mia attrezzatura? Eh... Cos'è? In vita, immagino. Sì, sì. Cazzo, ma io ne ho fumogine aggiuntive. Io ne ho 9 aggiuntive. Sì. Ma a me non segna le medicine. Ah, perché c'è questa. Sì, no, perché io ce n'ho una che ti aggiunge più bombe e il resto, munizioni. E un'altra che ti aggiunge più medicina, no? Quindi adesso c'ho quella con le medicine, aggiuntive. Ma a me non serve, no? No, quest'altra mi aggiunge 10 bombe fumogine, 4 astordenti, gas, bombe carte e munizioni della pistola. Ma le medicine... Io ho equipaggiato quella che mi aggiunge 9 medicina. No, è meglio, è meglio così. Ma intanto tu ti curi, poi mi fai il revivere, in caso muoia io. Ma sì, sì. Poi io ho munizioni infinite che do entrambi. Direi che non è un problema. Ok, dobbiamo fuggire dalla zona. Vabbè, c'era un tizio. Ma quanta gente c'è ancora? Quante ne vuoi? Qua sotto c'è una cassa e io la apro con un po' di cadaveri. Ok, io intanto fugglo. Sì, sì. Weee! Dove sei rincastrato? Ok Andiamo E vinciamo sta missione E' facile finora Poi le prossime saranno Infatti La rapina La palla di Luxemburg è impossibile Cioè è difficilissimo C'è un sacco di gente E' quella lì che facevamo Per giocare senza cadere Quella lì Quella lì è impossibile Ci divertiremo Tanto che facciamo tutto Sì infatti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti